Non li ho ancora presentati, prolunghiamo l'applauso per chi sta dietro le quinte, il motore di questa orchestra fantastica. Marco Cariani alla batteria, il maestro Claudio Novelli, Luca Piva, David Pacini alla tromba, Attilio Rubal, Tastiere, Solina, Oboi, Marimbe, Marco Micheletti, Giorgio Ragazzini, Samuele Bazzella e Nicola La Terza. È un onore per me suonare con questi ragazzi, bravi, bravi davvero, ci hanno messo anima e corpo.